Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Il dottor Trinca ha illustrato in modo egregio il lavoro, soprattutto scientifico, che c'è stato dietro a questa denuncia. Ricordiamo, è una denuncia molto articolata, di più di 80 pagine e corredata di circa 160-170 documenti, che sono tutti i lavori scientifici che sono stati via via consultati e valutati dal dottor Trinca per redigerla. Come è strutturata la denuncia? Abbiamo una premessa, cioè che esistono nella nostra Repubblica degli organi istituzionali, il cui scopo dovrebbe essere quello di tutelare la nostra salute. E li conosciamo tutti, quelli fissi, diciamo così, l'AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità e poi quelli di emergenza che sono stati istituiti come il Comitato Tecnico Scientifico. Bene, quello che da cittadino presuppongo è che le persone che sono in questi organismi e a maggior ragione i dirigenti del Ministero preposto, quindi del Ministero della Salute, siano degli esperti delle materie che trattano. Premesso questo, noi siamo andati semplicemente a mettere in fila un po' di fatti. La denuncia penale alla fine poi deve offrire al magistrato soprattutto i fatti, perché la valutazione giuridica di questi fatti poi spetta in primis alla Procura della Repubblica se vuole sollevare l'accusa e poi al giudice penale per l'eventuale condanna o assoluzione di chi saranno individuati come responsabili. E i fatti, devo dire, sono inquietanti. Abbiamo quasi 120.000 morti per Covid che ci vengono quotidianamente sbandierati per giustificare un'emergenza che non finirà mai perché andiamo avanti di proroga in proroga. Però qui noi abbiamo cominciato a interrogarci se la narrativa aveva un senso da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico. Allora, il primo fatto che abbiamo potuto verificare è che gli allarmi sul fatto che sarebbe stata imminente una pandemia da coronavirus c'erano da tempo. L'aveva detto l'OMS, l'avevano detto varie istituzioni sanitarie e anche internazionali. C'erano stati convegni dedicati a questa tematica ancora nel 2019, a pochi mesi dallo scoppio della pandemia. Allora, quando abbiamo letto sui giornali e sentito in televisione che si trattava di una malattia nuova e sconosciuta di cui nulla si sapeva, cominciano a sorgere dei dubbi. E qual è il dubbio? Allora, o queste persone che ci stanno dicendo queste cose non sanno e allora c'è una negligenza anche nell'accettare un incarico. Cioè, se non capisco nulla di virus e di pandemie da virus respiratori, probabilmente sono nel posto sbagliato. Oppure, se lo sapevano, c'è un elemento di dolo. Cioè, se io sapevo che esistono studi fin dalla SARS del 2003 che testimoniano sia come funzionano questi virus, sia quali sono le cure per opporsi efficacemente all'azione del virus, allora è possibile che ci sia del dolo. Altro elemento che abbiamo messo in rilievo nella nostra denuncia è la raccomandazione del Ministero di non fare autopsie. Questo è stato molto grave perché, se vogliamo ammettere che il virus era nuovo e sconosciuto, ma in realtà non lo era, allora il primo strumento medico per accertare qual è l'eziopatogenesi di una malattia nuova è l'autopsia. Lo sappiamo da centinaia di anni e quindi non solo si sarebbe dovuto evitare di sconsigliarle le autopsie, ma anzi si sarebbero dovute incentivare perché la scoperta del meccanismo di funzionamento di questa malattia è stata fatta grazie a dei medici che non hanno seguito le raccomandazioni del Ministero della Salute e che si sono resi conto facilmente che qui il problema era quello trombotico. Da questa scoperta al passaggio successivo, cioè quello di dire utilizziamo i protocolli di cura della SARS, in parte anche con le stesse medicine e con le stesse terapie, il passo è stato brevissimo. E quindi ci sono decine e centinaia di medici che, contrariamente alle raccomandazioni del Ministero, hanno iniziato con successo a curare i loro pazienti utilizzando i protocolli che nel frattempo conosciamo tutti e che sono dei veri e propri salvavita. Qui c'è l'altro fatto che ci ha lasciati molto interdetti, cioè mentre abbiamo dei medici che hanno scoperto delle cure, che funzionano perché il Covid si cura, si cura facilmente, si cura bene, e c'è la possibilità di uscirne senza grosse conseguenze e senza particolari guai medici. Allora perché questa notizia, che è vitale e cruciale per tutti quanti gli italiani, è stata tenuta sotto silenzio, è stata spesso anche ridicolizzata? Perché l'AIFA, che dovrebbe essere l'organismo che si occupa proprio della farmacovigilanza in Italia e che dovrebbe mettere a disposizione le informazioni sui farmaci che esistono e che si possono utilizzare, perché l'AIFA ha diramato una nota in cui si sconsigliava l'uso di determinati farmaci, nota alla quale l'AIFA è rimasta tanto attaccata, come stava ricordando il dottor Trinca, che è stato necessario prima che alcuni medici facessero causa all'AIFA per farla sospendere questa nota e non paga di ciò, l'AIFA adesso ha fatto appello contro il provvedimento del Tarlazio. Sono circostanze che lasciano interdetti, anche perché non ci dimentichiamo che i medici sono legati, tutti i medici, anche quelli che si occupano di sanità pubblica in istituzioni dello Stato, sono legati al giuramento di Ippocrate, cosiddetto, nel quale la cura della persona e la cura della malattia è il primo imperativo per il medico. Quindi, se è vero che sono di fronte a una malattia nuova e sconosciuta, allora chiunque abbia delle buone idee per curarla dovrebbe essere il mio primo interlocutore e non dovrebbe essere ridicolizzato in televisione come un ciarlatano o come qualcuno che sta cercando di vendere strane terapie. Se leggiamo le istruzioni diramate, soprattutto ai medici di medicina generale, il nostro stupore diventa veramente incontenibile, perché che cosa si è detto ai medici di medicina generale? State nei vostri studi e non andate a visitare i pazienti, il che è gravissimo. Il medico va a casa del paziente a fare le visite domiciliari, questo è il suo primo e fondamentale dovere come medico. Perché si è detto ai medici di medicina generale di non farli? Perché si è sostenuta con forza e con vigore una terapia telefonica? Cioè si diceva ai medici di medicina generale vi telefoneranno i pazienti per consigliare che cosa? Il nulla. Per consigliare di aspettare e vedere che cosa potesse succedere. Eventualmente un po' di paracetamolo, di tachipirina. Allora qualunque medico, e io ne ho consultati tanti anche per scrivere questa denuncia, sa perfettamente che bisogna intervenire subito, soprattutto sulle influenze respiratorie, sui virus respiratori, perché degenerano. Quindi questa strategia attendista è stata molto pericolosa e ha condotto a quello che tutti noi sappiamo, cioè decine di migliaia di ricoverati, terapie intensive al collasso, tutti intubati. E abbiamo nella denuncia l'evidenza scientifica che la strategia di intubazione è esattamente controindicata rispetto a quello che stava succedendo e tante, purtroppo tantissime persone morte che ci chiedono giustizia. Credo sia un dovere di tutti noi cittadini di offrire quello che possiamo in termini di giustizia a quelli che sono morti. E a nostro avviso sono morti o per una gravissima negligenza, oppure addirittura per un comportamento doloso, che se andiamo a mettere in fila questi fatti, cioè soprattutto la totale distruzione del tessuto economico e produttivo di questo Paese, giustificata con un'emergenza che invece si poteva risolvere con gli ordinari strumenti sanitari, ha tutte le caratteristiche di una condotta di stampo terroristico. Tant'è che nella nostra denuncia abbiamo indicato anche come ipotesi investigativa ai pubblici ministeri l'articolo 270 sexies del Codice Penale, che è dedicato appunto alle condotte terroristiche. Qui noi siamo di fronte, purtroppo, alle macerie di questo Paese, dopo un anno e mezzo di politica, giustificata su una situazione di allarme che chiunque legga la nostra denuncia si potrà rendere conto che non c'era. O meglio, c'era l'allarme perché le influenze sono sempre preoccupanti e non vanno trattate come se fossero una bagatella. E proprio per questo noi siamo estremamente sospettosi sul fatto che a fronte di una influenza che determina una sindrome respiratoria acuta, la reazione è stata prendetevi una pasticca di tachipirina e rimanete a casa in attesa di stare tanto male da essere ricoverati e probabilmente molti di questi morire. Abbiamo delle testimonianze che abbiamo raccolto nella documentazione abbastanza imponente che accompagna questa denuncia di situazioni in cui nella prima fase i pazienti intubati morivano uno su due, quindi una mortalità del 50% degli intubati. Eppure questa strategia giuridico-sanitaria è stata perseguita senza voler sentire opinioni diverse. Perché tutto questo? Perché a nostro avviso, in qualche modo, lo scopo finale è quello che stiamo vivendo oggi, cioè quello di proporre il vaccino contro il Covid come la panacea di tutti i mali. Un vaccino sul quale io tengo a precisare, che sennò poi si dicono sempre le solite cose, io non sono no-vax, non sono antivaccinista, io mi sono fatto tutti i vaccini possibili e immaginabili, ho vaccinato le mie figlie, quindi non ho nulla contro i vaccini che credo siano una grande strategia medica per salvarci da tante malattie gravi. Però i vaccini vanno valutati caso per caso e soprattutto quello che tutti noi sappiamo, che ora ci siamo dimenticati, è che tutti i vaccini richiedono uno studio medico lungo e accurato per arrivare a una decisione definitiva medica sul fatto che il rischio da vaccino sia certamente inferiore al rischio dalla malattia da cui ci deve proteggere. Se non funziona questa equazione, cioè se io non sono assolutamente certo che il rischio da vaccino è sicuramente molto inferiore al rischio dalla malattia, sto facendo un'operazione molto pericolosa o scellerata, cioè sto facendo una sperimentazione medica. Benissima la sperimentazione medica, nessuno è contrario alla sperimentazione medica e si sa che la sperimentazione medica può richiedere anche la sperimentazione sugli esseri umani, che è fondamentale, ma sugli esseri umani che la vogliono fare questa sperimentazione. Quindi è necessario che chiunque prenda questo vaccino, prima non sia costretto, come purtroppo abbiamo visto in questi giorni, e secondo abbia piena conoscenza di quello che sta facendo senza versioni miracolistiche che vengono propagate. La nostra denuncia è un atto molto duro, è un j'accuse contro la gestione della pandemia da parte del Governo precedente e anche di questo che sta seguendo esattamente la stessa linea. I reati che noi abbiamo sottoposto all'attenzione della magistratura sono gravi, e ve li elenco rapidamente. Parliamo di associazione per delinquere, finalizzata al compimento di una serie di reati fine che sono molto gravi, c'è la strage, articolo 285 del Codice Penale, l'epidemia colposa o dolosa a seconda di come si voglia vedere la situazione soggettiva degli autori dei reati, la turbata libertà dell'industria o del commercio, ricordiamoci che il nostro Paese è distrutto dal punto di vista economico produttivo, le lesioni personali gravissime, eventualmente l'omicidio laddove non si dovesse ritenere la sussistenza del reato di strage e da ultimo l'articolo 270 sexies che sono appunto le condotte di terrorismo. Quello che noi abbiamo vissuto è stata un'epoca, ed è ancora, un'epoca grave e preoccupante per tutti noi cittadini. Le libertà alle quali noi eravamo abituati sono state messe tra parentesi nella migliore delle ipotesi, ma non sappiamo nemmeno quando finirà questa stagione di lesione delle libertà personali. Quindi è necessario, è urgente che la magistratura penale intervenga, indaghi e valuti quello che è successo, perché a nostro avviso i dati di fatto che il dottor Trinca ha raccolto scrupolosamente e con grandissima attenzione lasciano intendere che c'è qualcosa che non va nella narrativa. Noi siamo fiduciosi che questo avvenga e vogliamo pensare che questo Paese sia fondamentalmente sano nelle sue istituzioni e confidiamo che ci sia la giusta valutazione in tribunale di quello che è successo durante questo passato anno. Lascio parola agli altri e vi ringrazio. Grazie.